Mi sono sbagliato, non è un calcio d'angolo ma l'arbitro assegna un calcio di punizione quasi come un corner corto del rugby, ecco che Bruno Conti sulla palla e di sinistro manda in avanti la testa di Krushimani purtroppo dà al Genoa il vantaggio della prima rete segnata ora dal Genoa al 14esimo minuto del secondo tempo, per la verità una segnatura Bruniera si smarca sulla sinistra a Casagrande, riceve la palla ora deviata da Bellini ancora con Casagrande questo di palla, Bellini si appresta a entrare in area, Bruniera, ancora Bellini bravo, e il Cagliari va in vantaggio, va in parità e Bellini con una bellissima azione portata sulla sinistra quando scade il giro